Musica Guarda, fai vedere questa immagine Poi mi dici che ne pensi Ma perché piante? Questa legge, seppur menomata Renderà le unioni civili una realtà in Italia Cambiamo in questo modo Dal diritto di famiglia Al diritto delle famiglie E' incredibile essere accusati Di voler distruggere l'istituto della famiglia Per chi chiede semplicemente Una famiglia di poterla costituire Alla luce del sole I vostri compagni vi domandano mai Chi sono i vostri genitori? Dicono Wow, pure io vorrei Dove è papà? No, no, una mamma Una tia che mi ha portato nella pancia Sì, però allora ti dico Ma tua mamma è morta? No, allora sono proprio di caccia La relazione che noi abbiamo Con Cynthia e Amanda Che le persone continuano a chiamare le mamme Ha bisogno di un altro nome Che non mi pensano Che non mi pensano Che non mi pensano